buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domande risponde oggi parleremo delle nuove regole che entreranno in vigore con la firma definitiva del contratto collettivo nazionale scuola 2019 2021 la prima domanda molte contrattazioni di istituto si sono arenate nell'incertezza di utilizzare i parametri economici del ccnl scuola 19 21 o quelli dei contratti collettivi nazionali scuola precedenti qual è il consiglio che può essere dato ai dirigenti scolastici e alle rsu occorre precisare che al momento forse almeno fino a dicembre 2020 23 la contrattazione integrativa di istituto può essere redatta in base ai contratti e alle legislazioni vigenti per cui ora per adesso è vigente il contratto collettivo nazionale scuola 2016 18 e i suoi precedenti per utilizzare i parametri economici invece previsti per dal contratto collettivo nazionale 19 21 della scuola il dirigente scolastico la rsu e i sindacali territoriali partecipanti potrebbero prevedere nel contratto integrativo di istituto l'accantonamento del 10 per cento del fondo di istituto oppure fare una contrattazione su base forfettaria e non su base estrettamente oraria il problema di tale e di tali contrattazioni è quello di possedere un fondo di istituto pari a quello dell'anno scolastico passato ma con compensi orari aumentati dal rinnovo contrattuale 19 21 del 10 per cento per tutte le attività orarie domanda numero 2 con il nuovo contratto collettivo nazionale scuola 19 21 nell'informazione successiva di riscontro dell'uso del fondo di istituto e del moffe il dirigente scolastico potrà consegnare il quadro dei compensi accessori riferito ai singoli nominativi dei dipendenti della scuola no non potranno più essere associati ai compensi accessori nominativi dei destinatari infatti ai sensi dell'articolo 30 comma 10 lettera b3 del contratto collettivo nazionale scuola 19 21 i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 78 cioè fondo per il miglioramento dell'offerta formativa precisando per ciascuna delle attività retribuite l'importo erogato il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che in ogni caso non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito per cui è un no netto cioè le rsu e i sindacati territoriali provinciali non potranno conoscere il nominativo del lavoratore che ha percepito un compenso accessorio domanda numero 3 quale novità c'è sul nuovo contratto collettivo nazionale 2019 21 riguardo i permessi per motivi personale e familiari del personale con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell'articolo 35 comma 12 del dell'ipotesi per adesso ma del contratto collettivo nazionale scuola 19 21 che sicuramente verrà a essere definitivo fra qualche settimana il personale docente educativo e ata assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico cioè fino al 31 agosto fino al termine le attività didattiche cioè fino al 30 di giugno ivi compreso quello di cui al comma 5 ha diritto a domanda a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico per motivi personali o familiari documentati anche mediante auto certificazione per il personale ata tali permessi possono anche essere fruiti ad ore con la modalità prevista dall'articolo 67 permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari speriamo che queste risposte a queste domande siano utili ai nostri telespettatori torneremo sicuramente a parlare prossimamente proprio delle novità del contratto collettivo nazionale scuola 2019 2021 arrivederci a tutti grazie a tutti